Continuano gli incontri della Confcommercio di Caltanissetta con i candidati a sindaco per le prossime elezioni amministrative. All'incontro questa volta avrebbe dovuto partecipare Gioacchino Loverme al suo posto. È stato il delegato Antonio Fiaccato ad incontrare gli imprenditori che chiedono più attenzione nei confronti delle piccole e medie imprese nissene. Con 16 punti proposti, la speranza è che venga rilanciata l'economia in città. Noi chiediamo, a parte quello che è un po' l'interesse generale che la Confcommercio ha nel senso di valorizzare il mondo delle piccole e medie imprese e quindi nel nostro tempo di dare una volta per tutti di realizzare una progettualità specifica che valorizzi anche il nostro territorio. Noi chiediamo anche un po' di attenzione a quelli che sono proprio fatti anche minimi, quelli che possono essere gli aspetti riguardanti la circolazione, l'ordine rispetto a quello che possa essere l'attenzione anche alle aree commerciali. In questi anni purtroppo questa attenzione è stata quasi non valutata da parte degli amministratori nei dovuti modi. E quindi oggi ci accorgiamo che ci sono porzioni del territorio a grande valore commerciale che vengono invece così abbandonate. Abbandonate perché non c'è nessun ordine pubblico, perché magari non c'è un controllo, perché magari all'interno ci sono delle condizioni di disagio che ovviamente anche i nostri imprenditori cominciano a sentire in modo particolare. Tutto viene amplificato al momento di crisi, come tutte le aziende stanno vivendo e quindi ovviamente la sofferenza aumenta ancora di più. Sulla circolazione abbiamo per esempio previsto che all'interno del centro storico ci fosse anche un assetto migliore. Abbiamo anche chiesto per esempio che all'interno del centro storico ci sia un controllo di ordine pubblico maggiore. Niente contro gli extracomunitari, però effettivamente un po' di ordine maggiore ci vuole. Abbiamo anche chiesto per esempio che ci sia una fruibilità del centro storico. Di fatto se noi guardiamo come il territorio è definito a Caltanissetti il centro storico ormai è diventato quasi periferia. Abbiamo chiesto per esempio che si accolga la variante che può fare questa circonvallazione sud in modo da riequilibrare la città rispetto al fatto che la città ormai è tutta conurbata verso San Catalto. Abbiamo chiesto che si realizzi qualche parcheggio in più e probabilmente anche qualche altro parcheggio all'interno del centro storico in modo che non ci sia solo per esempio il parcheggio di via Medaglie d'Oro ma che ce ne possono essere altri.